Piero Guidi, Chanel, Louis Vuitton sono solo alcuni dei marchi contraffatti sequestrati dagli uomini della Guardia di Finanza nel corso di diverse operazioni che hanno permesso di colpire l'intera filiera della falsificazione dei prodotti, dai produttori ai grossisti. Partiva da coloro che vendevano la merce contraffatta nel centro della città di Firenze fino a risalire ai capi maglia, cioè sono coloro che riforniscono questi soggetti e prendono la merce che viene appunto prodotta sia nel territorio dello smannoro sia che viene dall'estero. Tre le persone denunciate, due di nazionalità cinese e un senegalese, un migliaio gli articoli sequestrati. Ogni anno aumenta il mercato della vendita dei prodotti contraffatti, evidentemente la moda tira e quindi le persone pur di avere un oggetto apparentemente di valore spende pochi soldi prendendo anche merce contraffatte di poco valore, in alcuni casi, mentre in alcuni casi c'è ovviamente una contraffazione di alto livello dove i prodotti sono anche di ottima fattura. Eppure è un reato quello dell'acquisto e della vendita di prodotti contraffatti che ha conseguenze molto più pesanti di quanto si possa pensare. Danneggia sicuramente l'intera economia del paese, infatti lo specifico settore è trainante per il nostro paese e appunto comprare merce contraffatta di fatto danneggia le nostre aziende. Grazie. Grazie.